Oggi parliamo di un errore comune nell'apprendimento dello yoga, sia dal punto di vista degli studenti che degli insegnanti. Ma sai qual è? Te lo dico io! L'errore forse più comune in assoluto che facciamo tutti quando iniziamo yoga, quando cominciamo ad insegnare, è quello di essere impazienti nell'apprendimento. Vediamo una posizione, vogliamo farla e ci aspettiamo che venga bene dall'inizio, ma soprattutto ricerchiamo la perfezione. Beh, quello è un errore molto comune perché i grandi maestri dicono che per maneggiare, attenzione alle parole, una posizione correttamente possono volerci anni. Che cosa significa? Significa che tu dall'oggi al domani potresti imparare a metterti a testa in giù, a fare posizioni sulle mani o a fare posizioni ben allineate, però per maneggiarle, gestirle correttamente, capire a fondo il senso dello yoga, riuscire a rilassarti in quelle posizioni, perché ricorda, su Kasanam, quindi in maniera comoda, ci vogliono anni. Per cui non correre, ma prova a goderti il viaggio.